Due atti intimidatori e inquietanti, uno a Monforte San Giorgio, l'altro a Milazzo. A Monforte San Giorgio a ricevere le indesiderate attenzioni dei malviventi è stato il sindaco Giuseppe Cannistrà. Al primo cittadino sono state indirizzate due cartucce contenute in una busta. Nessun messaggio di accompagnamento, solo le due cartucce appunto contenute in una busta gialla indirizzata alla segreteria dello stesso primo cittadino. L'episodio, atturbato inevitabilmente il paese e il sul grave fatto, indagano i carabinieri che operano nel massimo riservo nella speranza di risalire all'autore del gesto. I proiettili intanto sono stati inviati a RIS di Messina per tutti gli accertamenti del caso con l'obiettivo di trovare elementi utili all'attività di indagine. A Milazzo invece, oggetto di un avvertimento a dir poco macabro, è stato un assicuratore 62enne che sul sedile lato guida della sua auto ha rinvenuto una testa di maiale mozzata. I gnoti nella notte hanno frantumato il vetro del finestrino dell'auto dell'uomo e sistemato il macabro reperto. Anche in questo caso totale riservo da parte degli inquirenti che stanno lavorando per fare luce sull'accaduto. Sul posto è intervenuto personale del commissariato di polizia di Milazzo e della scientifica che hanno condotto tutti i rilevi necessari per avviare l'attività investigativa. Si cerca di risalire all'ora esatta in cui i malviventi hanno messo in atto l'azione intimidatoria e per questo gli inquirenti stanno cercando eventuali testimoni.